Oggi abbiamo fatto un altro passo importante verso una novara turistica, una novara da proporre non soltanto ai novaresi ma anche ai turisti italiani e stranieri. Oggi abbiamo aperto un ulteriore pezzo di cupola di San Gaudenzo e sarà possibile uscire allo scoperto e passeggiare vicino al colonnato e poter osservare la nostra città dall'alto. Devo dire che è quello che mi ha mosso, proprio nella determinazione di aprire la cupola, il panorama che possiamo vedere da questa posizione. Vedere Novara dall'alto è una vista inconsueta perché non ci sono altri punti in Novara dalla quale si può osservare dall'alto, è una città piatta. Invece vederla dall'alto, vedere i tetti della città vecchia, vedere le risaie, vedere le montagne, il cielo ci fa capire come la nostra città sia oggettivamente una bella città e che vale la pena proporla non soltanto ai novaresi che non molti sono saliti sulla cupola fino ad oggi anche perché era chiusa, ma proporla anche come meta turistica per chi si avvicina al nostro territorio. Non è stato semplice perché i problemi burocratici, i problemi di sicurezza, insomma, sono sempre degli ostacoli difficili da superare, ma ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo fatto grazie alla Banca Popolare di Novara che ha finanziato parte di questi interventi e oggi io direi che possiamo dire che restituiamo la cupola di San Gaudenzio ai novaresi e ai cittadini italiani. Grazie a questa nuova rete è possibile vedere Novara dall'alto senza correre pericoli e i numeri che riguardano i flussi turistici, non solo turistici perché sono anche tanti novaresi che visitano la cupola quest'anno, sono davvero impressionanti. Non ci aspettavamo neanche noi che su quattro giorni di apertura settimanale ci fossero così tanti numeri e soprattutto così grandi interesse. Infatti dalla fine di gennaio ad oggi sono circa 7.000 i visitatori che hanno potuto salire fino alla sala del compasso e visitare questo bene così importante con questo compasso progettato dall'Antonelli e poi utilizzato da Magistrini unico nel panorama davvero italiano per la sua specie, per la sua forma e devo dire che su questi 7.000 visitatori circa il 35% proviene da fuori Novara. Fra questo 35% bisogna dire che c'è anche un certo numero rilevante di turisti stranieri. Grazie a tutti.